e di cui da anni stanno attaccandomi, tanto è che io non avendo né mezzi di televisione né altro, mi sono difesa, mi sto difendendo, le aule giudiziarie ottenendo giustizia in quella sede. E volevo, e volevo, e vorrei, non volevo, vorrei che Repo, che è una grande visione che stimo, rispitta, rispitta, se ne potesse occupare raccontando l'altra faccia della medalla. Allo Stato non mi è stato possibile arrivare a questa soluzione, tant'è che io non ho chiesto un risarcimento italiano, non ci vuole guadagnare il suo, ho chiesto un euro per dire un caffè, un caffè, ma sono disposto anche a pagare un video il caffè alla dottoressa Campanelli, purché mi dia la possibilità di far sentire la mia voce. Grazie.